Resta in carcere l'uomo che è ubriaco alla guida di una minicar domenica ha ucciso madre e figlia d'Arezzo. Il GIP Anna Maria Loprete ha accolto la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dal PM Elisabetta Iannelli nei confronti di Alex Dunà, romeno di 40 anni. Ieri il GIP aveva convalidato l'arresto riservandosi di decidere circa la custodia cautelare. L'avvocato Andrea Sandroni, che rappresenta Dunà, aveva chiesto una misura meno afflittiva come i domiciliari. Il romeno risiede a indicatore frazione alle porte di Arezzo. Intanto ad Arezzo è stata lanciata una raccolta di fondi per aiutare Luca Fiacchini, padre della piccola Letizia e marito di Barbara a sostenere il peso dei funerali che si sono svolti ieri. Gli abitanti di San Leo, dove si è verificato il terribile incidente di domenica, continuano a sollecitare interventi su una strada che resta ad altissima pericolosità. Abbiamo paura di uscire di casa, dicono. Due giorni fa un'auto guidata da un 19enne si è ribaltata da Arezzo a pochi metri di distanza dal luogo in cui il romeno ubriaco ha falciato con la minicar Barbara Fiacchini e la figlia di 10 anni.